Sì è, è mixato in doppio Guarda che questo funziona Ti guarda tanto? Chi fa questa faccia? Ti guarda? Era un mega computer qua Si è, era mettere i microchip pure Secondo te? Non ho visto uno A portatile Anzi visto uno che praticamente sul braccio aveva la scheda madre di un computer Ah, ma lui lo buffa Che ti piace? Ma ha detto, posso avere il cuore e devo mettere il Processore Sì 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 Vedete le luci Vedete le luci Vedete le luci Scusami Vedete le luci Vedete le luci Vedete le luci